Quest'altra è ancora più semplice, lui mi attacca sempre circolarmente col colpo circolare destro. Oppure, anche qui si può usare anche il taglio, più che questo. Oppure ancora, fa! Oppure ancora, che so? Questa è la tecnica della fiori. Insisto, io lo trovo, io! Era già un cambio, perché in pratica vi trovate qui qua, o di là, secondo me, quindi è già il primo cambio. Quello così, e poi così. Però, quello che ho fatto ora è già il terzo cambio. Il terzo cambio è sul foglio del fio. E quello che ho fatto prima, è così. Ta, poi ta, ta. Questo avvolgimento. E quindi questa tecnicina, questa tecnica qui, bam, 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 quindi lui o la prende e è stompito, o non la prende e fare. Ma in ogni caso io vado subito qui, va, e giro qui. Non è scusa, dopo vengono, non è così. E quindi è scusa, comunque per il 복 billionaire. Ma conforme è ancora il bambino, non è scusa... Così proprio. Noi SW toito! Oh no 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 no! Grazie. Grazie.